Centinaia di emendamenti presentati dall'opposizione che continuano a tenere inchiodati sui banchi tutti gli attori del Consiglio Comunale. Non si riesce a trovare la quadra sul caso dell'introduzione della tassa di soggiorno presentata dall'amministrazione comunale come un provente utile per offrire più servizi attrattive sul territorio dedicate al comparto turistico offrendo così un'occasione importante di rilancio. Noi ci saremmo aspettati un contributo di idee che in quegli emendamenti non si vinci. L'opposizione da prima ci ha chiesto di modificare alcune cose della delibera come prima non andava bene il piano marketing, poi ci hanno chiesto un calendario degli eventi precisi, noi abbiamo fornito tutte queste piegazioni e poi ha cambiato rotta dicendo che questo contributo non andava speso, andava messo nell'avanzo di bilancio fino anche a proporre che questo contributo doveva servire per sgravare alcune cose riguardo la cosa, la tassa dell'occupazione di suolo pubblico. Dall'altra parte l'opposizione aveva chiesto di destinare quei proventi alle casse comunali che di certo non navigano nell'oro e qui avevano incontrato la protesta di federalberghi. La tassa di soggiorno è stata concepita per avere un piccolo introito destinato ai turisti e prevede esenzioni e limiti di tempo per un costo massimo di 7 euro a persona. Il regolamento è molto preciso, costerà un euro per pernottamento e poi ci sono delle varie esenzioni, comunque sarà diciamo introitata fino a un massimo di sette giorni, poi ci sono delle esenzioni per quanto riguarda i bambini fino al diecimo anno di età e per quanto riguarda gli anziani dal sessantottesimo anno di età. Un regolamento molto preciso e attento, è una delle uniche città italiane che ha ancorato questo contributo di scopo, quindi questa tassa di soggiorno alla redazione di un piano marketing fatto con tutti gli attori protagonisti. grazie. 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 grazie.